Noi viviamo in questo mondo così, no? Meraviglioso apparentemente, però siamo sostanzialmente degli schiavi e dopo vedremo anche per lì, siamo schiavi, lavoriamo, ci facciamo culo così e alla fine cosa abbiamo? Le stesse persone che lavorano negli stessi posti, di là, di qua, di sotto, di sopra in qualsiasi altro paese vivono una vita molto più agiata perché guadagnano stipendi più elevati, perché ovviamente non ci sono alcuni fiscali sui lavoratori c'è maggior guadagno da parte delle imprese che possono permettersi di pagare stipendi migliori i minimi salariali sono più elevati e d'altronde poche aziende qui in Italia possono permettersi di alzare i minimi salariali perché l'azienda pure sta impiccata in questo periodo poi tra l'altro c'è una moria incredibile tasse che erano state sospese per via del Covid e poi invece sono state richieste con tutti gli interessi anche i mutui, i mutui sospesi oggi li dichiedono con tutti gli interessi e se uno l'avesse saputo si sarebbe anche venduto le mutande ma avrebbe pagato perché poi gli interessi oggi gravano ancora di più quindi è una cosa, questo paese è veramente ma non dico da riformare, da resettare totalmente però perché poi viviamo così siamo quelli che lavorano di più al mondo abbiamo l'avanzo primario più alto cioè avanzo primario significa che noi produciamo molto di più di quello che spendiamo per i servizi pubblici cioè facciamo fare utili allo Stato pensate con le tasse che paghiamo hai capito? qui poi parla di evasorio, ma che cazzo era di evasorio? qui lo Stato guadagna molto di più di quello che ritorna ai cittadini dice ma questi soldi dove stanno? è nelle tasche degli speculatori sotto forma di interessi che noi continuiamo a pagare da 20-30 anni perché qualcuno li ha contratti qualche truffatore, un po' come quelli che hanno fatto l'app e non funzionano noi abbiamo mandato al governo abbiamo dato un incarico a qualcuno va bene e questo invece ci ha indebitati fino al collo non si capisce perché con aziende private con banche, interessi che ancora paghiamo e noi siamo poveri per colpa di e non ci ribelliamo ecco perché poi siamo ma l'abbiamo capito questo in questo periodo che cosa è accaduto? e prima il covid e poi adesso la guerra eccetera e sanzioni agli altri ma al finali becchiamo noi il covid a tutti quanti voglio dire è passato quasi indenne voglio dire pochi sono i paesi che ne hanno sofferto veramente tantissimo molti hanno detto di fare restrizioni ma in realtà il popolo è stato tranquillo abbiamo ormai le testimonianze di tutto il mondo l'unico paese che è stato bastonato tutti a casa la polizia che andava cercando le persone che andavano in montagna, in bicicletta oppure al mare una cosa da vergogna planetaria ma vergogna di tutto l'intero sistema solare a su Marte ridono ridono va bene di questa storia dice beh però noi siamo quelli che abbiamo avuto meno problemi col cavolo abbiamo un record di decessi e di contagi in Europa quindi il problema vedete non è più noi non lo facciamo più ormai entrare nei meriti portare i documenti l'abbiamo già fatto allora la domanda è avete capito o non avete capito e questa è la domanda io vorrei confrontarmi con le persone per capire se se c'è una consapevolezza o se qualcuno ha qualcosa da dire a questo proposito perché cioè che questi sono dei peragottari abbiamo capito ora capisco se vendi le bibite allo stadio ci può pure stare che è sempre peragottaro nel senso politico voglio dire perché vendere le bibite è un mestiere dignitosissimo se poi pretendi di fare il ministro degli esteri no ecco questo voglio dire no tanto per essere chiari no per essere chiari quindi ma quantomeno studia un pochino prima fatti un po' di esperienze che ne so ma dritto dritto dagli spalti alla poltrona che è stata di Moro che è stata di 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 vabbè se ne cito uno adesso dovrei citarli duemila ho citato l'unico che più conosciuto diciamo voglio dire però se sei se sei draghi per esempio già me preoccupo il grande genio l'unto dal signore eccetera è venuto qua e noi siamo peggio di prima quindi dice ma la colpa ma la colpa c'è di chi poi non se ne accorge e continua andando in televisione va tutto bene tutto a posto tutto bene funziona tutto tutto regolare siamo tutti ricchi sei milioni di poveri assoluti cioè al di sotto della soglia della sopravvivenza attenzione sei milioni in Italia non lo dico io dice l'istat lo dicono le organizzazioni governative eh il dieci per cento della popolazione scusate ragazzi ma io non so se avete capito però tutto a posto perché poi finché non tocca a voi è ovvio no e dice ma sono sei milioni a me che cazzo io faccio parte degli altri cinquantaquattro hai capito cioè e dice sei milioni e vabbè ma io solo faccio parte degli altri cinquantaquattro anzi in realtà faccio parte degli altri dell'altro cinquanta per cento perché poi c'è una grande percentuale di poveri non al di sotto della soglia ma di poveri qui dice a me io sto dall'altra metà diciamo beh sto a posto sto bene così ciao come era a me che me frega no ecco questo non va bene perché poi toccherà anche a te non ti preoccupare no ecco che c'è un'altra metà no ecco che c'è un'altra metà no ecco che c'è un'altra metà